Ciao ragazzi, questo è il nostro primo video salutiamo il nostro grandissimo amico Davide Squattecchia Adà, siamo appena arrivati a Ibiza che cosa si prospetta questa giornata? no, vediamo, siamo stanchi però voglio andare subito al mare andiamo da lontano al nostro il nostro il nostro Grandfather Pico Candeloro un saluto forte forte da Ibiza inizia l'operazione, si seguete due per me è quattro e un saluto al nostro sponsor Drago Verde, Beach Resort see you